leggiamo geremia capitolo 2 i primi cinque versi la parola del signore mi fu ancora rivolta in questi termini va e grida le orecchie di gerusalemme così dice il signore io mi ricordo dell'affetto che avevi per me quando eri giovane del tuo amore da fidanzata quando mi seguivi nel deserto in una terra non seminata israele era consacrato al signore egli era le primizie della sua rendita tutti quelli che lo divoravano si rendevano colpevoli e la calamità piombava su di loro dice il signore ascoltate la parola del signore o casa di giacobbe e voi tutte le famiglie della casa di israele così parla il signore quale iniquità avete hanno trovato i vostri padri in me che si sono allontanati da me e sono andati dietro alla vanità e sono diventati essi stessi vanità è straordinario il modo in cui il signore parla al suo popolo ora riflettiamo questo la parola di dio ci insegna che l'intera umanità è suddivisa in due grandi categorie spiritualmente parlando è coloro che appartengono a cristo e coloro che non appartengono a cristo coloro che sono popolo del signore e coloro che non sono popolo del signore ma questa distinzione vedete non è generata tra buoni e cattivi come solitamente pensiamo la parola di dio è ben lungi dal considerare questo se voi pensate che lo scrittore del nuovo testamento della maggior parte del nuovo testamento intendo l'apostolo paolo era un un assassino un malvagio un un crudele esecutore di tremendi giudizi tra l'altro ingiustificabili eppure egli divenne il predicatore di un messaggio di salvezza che ancora oggi porta salvezza all'umanità era uno tra gli uomini più spietati che tutta la chiesa temeva ma divenne l'araldo dell'evangelo non non dipende da da buoni o cattivi poiché l'evangelo è scritto nella sua parola è rivolto proprio ai malvagi agli assassini ai agli operatori di iniquità a coloro che hanno il cuore aspro perché l'evangelo ha la capacità di trasformare il cuore il punto non è quanto siamo buoni o quanto siamo cattivi il punto è cosa ha fatto dio nella nostra vita e quale trasformazione ha operato in noi e quanto grazie a quella trasformazione oggi il nostro amore si rivolge a dio perché vedete il popolo di israele era schiavo in egitto era lontano dagli insegnamenti di dio era un popolo che gridava sia a dio a causa delle sue difficoltà come schiavo ma non conosceva dio e dio udì la sua voce e mandò il suo servo mosè per trarlo fuori da quella condizione e instaurare con il suo popolo un rapporto d'amore è commovente quello che dice qua così dice il signore io mi ricordo dell'affetto che avevi per me quando eri giovane del tuo amore da fidanzata quando mi seguivi nel deserto in una terra non seminata l'amore che dio vuole stabilire con noi è un amore intenso appassionato beh l'amore che dio ha per noi si può riconoscere immediatamente basta alzare lo sguardo e fissarlo sulla croce di cristo giusù lui ha manifestato la grandezza del suo amore egli dio benedetto in eterno si è fatto uomo si è umiliato e si è umiliato per vivere come uomo tra gli uomini in mezzo alle sofferenze e al dolore per compiere qualcosa salire su una croce umiliato rifiutato dagli uomini trattato come un malfattore e questo perché perché voleva prendere su di sé il peccato che condanna l'umanità e che porterà l'umanità a scendere in un abisso infernale senza possibilità di ritorno ampia è la via larga è la porta della strada che conduce alla perdizione molti sono quelli che la percorrono questo lo ha detto gesù stretta è la porta è angusta è la via che porta alla salvezza e pochi sono quelli che la percorrono molti e pochi qual è la differenza ripeto non sono buoni e cattivi perché i più cattivi hanno lasciato la via ampia e si sono diretti lungo la via stretta ma il punto è porsi una domanda e questa storia ce la presenta in maniera grande dio chiede al popolo dio chiede agli uomini di essere da loro amato e amato in modo intenso l'abbiamo letto anche nell'apocalisse all'inizio del culto ho una cosa contro di te una cosa che è discriminante che tu non mi ami più e se non mi ami tu non mi appartieni è tremenda questa affermazione gli uomini si rifugiano nel nella religiosità nell'appartenere nel celebrare determinati diritti gli uomini si rifugiano nella propria bontà presunta bontà ma tutte queste cose non hanno valore se non ami dio e la cosa straordinaria che la parola di dio afferma che chi ama dio obbedisce a lui e la manifestazione dell'amore per dio sta proprio nell'obbedienza gesù lo ripete tantissime volte chi mi ama osserva i miei comandamenti chi osserva i miei comandamenti quello mi ama e c'è quindi una relazione che si crea non basta dire sono una persona a posto perché se non ami dio che è la ragione per cui dio ti ha creato tu non potrai mai sentirti a posto e allora c'è questa grande scoperta e permettetemi questa grande riscoperta che deve nascere in noi ogni giorno ed è il fatto di cominciare ad amare dio e di continuare ad amarlo e questa è l'esperienza più bella mentre leggevo questo passo mi veniva in mente il giorni in cui il signore ha cambiato completamente la mia vita è una cosa che dico spessissimo io non sono né nato né cresciuto predicatore la mia vita era lontana immersa nel peccato nell'ateismo nella blasfemia e immerso in una realtà che era lontana da dio o sì se mi aveste chiesto in quel periodo se ero una brava persona o vi avrei detto assolutamente sì ero molto fiero della mia morale di ciò che ero in mezzo agli altri ma un giorno qualcuno mi mise dinanzi la relazione con dio non una religione ma il rapporto diretto con dio questo mise in crisi il mio ateismo e cominciai a chiedermi come può essere che al presente in questi giorni degli uomini possano realizzare un rapporto diretto con dio e così cercai non una religione ma cercai dio e in una notte lo spirito di dio scese su di me e cambiò il corso della mia vita mostrandomi chi ero realmente dinanzi a lui e in quella notte la mia presunta giustizia o correttezza crollarono in un momento mi sentii peccatore lontano da dio e la prima cosa che feci considerando che il mio peccato era degno di essere condannato ad un inferno eterno invocai dio e il suo perdono invocai la sua grazia e in quella notte la mia vita cambiò perché con conobbi il suo amore conobbi che cristo era salito su quella croce per darmi salvezza e che tutto quello che dovevo fare è essergli eternamente grato ed amarlo perché egli mi aveva amato per primo io ho scoperto allora che è vero quello che dice in geremia è proprio questo quello che dio vuole vuole essere amato perché per questo ci ha creati per essere da lui amati e per amarlo ricordiamo sempre questo e lo dico anche a coloro che oggi scendono nelle acque battesimali servire dio vuol dire principalmente tenere vivo l'amore per lui inizialmente quando cominciarono a camminare seguendo il signore erano come una fidanzata innamorata del suo sposo ma poi col tempo volsero lo sguardo altrove e dell'amore non rimase che vuota ritualità senza passione né desiderio e dio si dispiacque come si dispiace ogni uomo ogni donna che si rende conto che un grande amore altro non è divenuto che vuota formalità e il signore non passa sopra queste cose egli è morto sulla croce per offrirci una via che ci renda capaci di amarlo con tutta la mente con tutto il cuore con tutta l'anima e questo è l'unico vero sentimento religioso amare dio non lo dimenticate mai perché quando un giorno compariremo dinanzi a lui quello che avrà realmente valore sarà solo ed esclusivamente questo averlo amato con tutto noi stessi e ricordate Cristo è sceso sulla terra per manifestare questo amore e per dire ho un comandamento per te un comandamento che è il primo tra tutti senza il quale tutti gli altri non hanno alcun valore amami con tutta la mente con tutto il cuore con tutta l'anima con tutte le tue forze come io ti ho amato dando la mia vita per i tuoi peccati e voglia il signore mettere questo sentimento senza il quale la nostra religiosità non ha alcun valore non è altro che polvere che il vento porta via signore donami grazie di amarti come tu mi hai amato donami grazie di amarti perché tu mi hai amato per prima